Nella giornata di ieri al comando di Polizia Municipale di Pordenone, il comandante colonnello Arrigo Buranella ha consegnato a Michele Roveredo, presidente AISLA della sezione pordenonese, i fondi raccolti dal corpo da devolvere alla ricerca e alla tutela dei malati di SLA. Sono stato invitato qui oggi alla Polizia Municipale di Pordenone in riferimento al Life Bucket Challenge che era la doccia gelata che in questi ultimi tempi vedete nella nostra regione. Praticamente per mezzo di questi fondi che vanno destinati al centro del motoneurone di Padova si potranno mantenere 340 malati di SLA gratuitamente, salvo pensare che questa malattia è terribile a cui ancora al mondo non c'è nessun tipo di medicina che possa fermarla. L'iniziativa, nata in occasione della doccia ghiacciata di un gruppo di vigili, il cui video ha riscosso significativi apprezzamenti sui social, è stata condivisa concretamente da agenti, personale amministrativo e messi comunali che hanno aderito a questo gesto di solidarietà. Siamo stati onorati di essere stati chiamati in causa dai colleghi, dai vigili del fuoco per questa iniziativa che secondo noi come Comando di Polizia Municipale era più che lodevole. In pochissimo tempo abbiamo appunto colto il testimone per questa doccia gelata in cui ci ha visti a fare questo video molto apprezzato e quindi molto sentito anche dai colleghi. Siamo contenti di aver dato il nostro contributo, di aver avuto l'appoggio per questo anche del Comandante. Noi tutti siamo ovviamente e saremo sempre disposti insomma a continuare a collaborare in qualsiasi modo con l'associazione e comunque con queste iniziative che ritengo molto importanti. Grazie a tutti.